Bella ragazzi a tutti bentornati in questo nuovo video qua sul mio canale E oggi raga come state per vedere faremo il drop di finis season Ci sarà il drop di finis season? No in me donama è che è 750 per tutto Però oggi ci apriremo la cassa enorme, la mega cassa di punti salari Quindi 1800 punti salari intascati, ne abbiamo 3674 Beh io rica vi tiro, non ho troppato neanche così tanto sapete Stavo con la cassetta, non ho troppato neanche così tanto Stavo a 17.061 e mostro a 16.481 Dai, dai ci sta, ci sta tipo 600 coppia, no a meno di 600 coppia Comunque andiamo nell'offerta di oggi che sta Un rato pezzettone gratuito Quindi arricchiamoci nello shop Le voglio aprire subito, vediamo questa cosa, trovo Ah comunque rica non ve l'ho detto, ho impiantato 5 gemme Non ve l'ho detto, ma ho maxato, cioè ho portato al 9 Puccio Ecco qui il signor Puccio E io rica spero di trovare una stellare in questo, tra virgolette, box opening Perché non è un box opening, però vabbè Lui no, allora, quindi 3 Aspettate, ma tutti non ti ho, aspettate Non bloccare, non disturbare, ok Quindi, apriamoci la cassa per me Non è un punto di installare E vediamo, anzi spariamo nei 3 skip E l'ultimo si è luminoso Vediamo, 2, va bene Cioè Vabbè, dai, dopo giusto non le gemme Ora, io spero che non sia un 5 skip Ti prego Ti prego Ma se la star party poi ce la lascio No, mannaggia Ti prego Fa che non sia Intanto non ho qui Fa che non sia un 5 skip Ti prego Ti prego Ti prego Un 6 skip Poi lì, nello scorso fine season Mi è andata malissimo Non ho trovato niente Speriamo ora 5 skip Non ci posso credere, rica Non ci posso credere Non trovo mai niente Non trovo mai niente Non trovo mai niente Gemme almeno 11 gemme Ok, sincero, grazie Si è fatto perdonare Bruno Ok, grazie, grazie Però Non posso sciopermi niente Non scioprivo Ricarletto e Leonardo E vabbè Io spero che me lo mettono in sconto Comunque Oggi Prima di tutto I katana Mech 750 coppie Si fanno easy Oggi Intanto qua è il club Va bene Molto bene Mi vorrei andare a fare Mi vorrei andare a prendere Gettone Stella Io qui, rica Punterei con Ems Like, iscrizione, campanella Se volete La prossima Il prossimo La prossima fine season Appunto Tra due settimane Mi sa Quindi Non so perché Mi sa che sto laggando Infatti pure nell'apertura Delle casse Stavo laggando Mi sa Però Rica, sto laggando Non so perché Ma mi sto laggando Allora, mi sa Dopo Fammi la connessione Dopo sta partita Ma pure Ma non so se sta facendo finta Di laggare Oppure No, rica, no No, io rica Non volevo fare questo Io volevo spostare la palla E stare la ulti Però Non Non ha funzionato molto Ecco Però Vediamo Allora Lì sta il primo E il primo è Hehehe Bro Aiutami però Bro Rip C'è What? Gol C'era fatto gol Ok Siamo già sotto 1-0 Tra l'altro È anche Il primo giorno Di scalato Quindi non penso Si possa fare qualcosa Comunque I Domani Cioè Ieri 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 Dovevo uscire il video Di Call of Duty Sul secondo canale Però Youtube non me l'ha fatto caricare Non so il motivo Non chiede Rica Sto laggando come un cane Ok Bene Bene Se li fa Se li fa Rica Perché tanto questa cosa L'ha persa Taglio E si li fa Perché Rica Sto laggando un bot Lo so è brutto Quando uno lagga Cioè A vederlo è brutto Quindi Taglio Abbiamo perso Però Ci Andiamo con la Seconda partita Del Match E Vado sempre Di Amazon Rica E mi sa che Poi Sono in server Di bro Rica Che laggano Perché io Con il 4G Sto laggando Molto bene Bellissima Si Pro E vabbè Dobbiamo Meno Killare qualcuno Cioè Almeno Lei Grandissima Ne ebbero Fatta una Grandissima Cacchiata Si Però Vabbè Tu Non hai capito Che ci muori Bellissima Si Tu che ci apri Va bene Bro Non stavo Entrando in vittoria Comunque Rica Se questo qui E' pure persa Io direi di finire Quel video Perché Rica Mi faccio un po' Le duo Con i miei amici E vedo di fare Qualche coppetta Comunque Per sapere questa Quindi Non lo so Io Rica Questo video Lo volevo solamente Dedicare Al Tra i due Del box Opening E io spero Che il video Vi sia piaciuto Se è così stato Lasciate la iscrizione Al canale E mettete la campanella Link di discord Del secondo canale Che siete in iscrizione Come sempre Quotefax è tutto Ci becchiamo Nel prossimo episodio Ciao ciao